Massimiliano Massieri sei un po' uno dei promotori, uno dei firmatari della petizione per salvare questa ciminiere, ecco perché tutto questo? Perché ho sentito tanti amici che erano contrari all'abbattimento di questa ciminiere, quindi prima ho pensato di fare una petizione, di indirla e più di mille amici hanno firmato, amici non amici, non conoscenti. E ora ho pensato di fare, visto che siamo nell'imminenza, quanto pare dell'abbattimento, di venire qua e testimoniare che quello che più di mille persone, firmatari e più tanti altri, non condividono, cioè questo abbattimento. In modo un po' forte diciamo che è un atto che non era dovuto, in realtà c'era la possibilità di ristrutturare, è stata fatta una scelta per abbatterla e molti di noi imperiesi non siamo d'accordo. E' un atto che va contro la volontà di tanti, va contro la storia d'imperia, contro soprattutto i beni culturali, perché non dimentichiamo che soprattutto è un bene tutelato dalla soprintendenza dei beni culturali che ha purtroppo accolto la notizia che fosse necessario abbattere, l'ha accettata. In realtà c'erano piani che sono presenti, piani di ristrutturazione ma non sono stati accettati. Speriamo che si possa salvare, ma se non si dovesse salvare questa speriamo che in futuro si pensi meglio prima di abbattere un valore d'imperia.